La comunicazione nell'attività di un professionista. Parole come prima il lavoro e poi il sito oggi non hanno proprio più alcun senso di esistere, neanche come ricordo, in quanto proprio appartenenti a aeree geologiche veramente, veramente lontane. A maggior ragione in cui si vive un momento storico, quello attuale, caratterizzato da un'emergenza sanitaria che di fatto ha portato davanti o dietro una tastiera a una quantità di persone veramente smisurata. Una tastiera, peraltro, usata, non da ora, da molti professionisti per promuovere se stessi senza avere piena compiutezza del fatto che questo percorso, questa attività sia parte integrante a tutti gli effetti, sì, di un lavoro molto ampio e molto organizzato. Le categorie professionali come i commercialisti, gli ingegneri, gli agronomi, gli avvocati, i farmacisti e chi più ne ha più ne metta, sono attività che producono servizi e non prodotti e che tradizionalmente, fatta eccezione di alcune categorie più vicine alla comunicazione, quali gli architetti, e con differenza delle attività commerciali, si sono sempre disinteressate a canali comunicativi che non fossero quelli sostanzialmente tradizionali e in parte anche autoreferenziali, quali ad esempio la scrittura su libri, la scrittura di articoli, la partecipazione a convegni, la tenuta di lezioni, di didattica o eventualmente di pubblica relazione fatte in prima persona. Questi liberi professionisti, questi freelance ad alto valore aggiunto, oggi devono sottostare a delle leggi di mercato che impongono loro la costruzione di una identità digitale sì, ma anche molto personale, le due cose vanno molto vicine l'una all'altra, che consenta loro di distinguersi in un mercato sempre più affollato e di emergere secondo quelle che sono le proprie specificità, con un percorso di costruzione che però non è riconducibile alla vendita di se stessi, né con un percorso di divulgativo, con una modalità divulgativa che sia affidata solo o in gran parte alle capacità dialettiche del singolo soggetto. Mia opinione per arrivare a completare un percorso cognitivo che porti alla costruzione di una identità ci sono una serie di passaggi che secondo me possono essere riassunti in cinque capisaldi. La prima è la costruzione personale di una credibilità, una credibilità che oggi potremmo definire come la nuova moneta. Oggi in internet la credibilità è la nuova moneta a tutti gli effetti, una credibilità che per essere costruita necessita di azioni continue, senza soluzione proprio di continuità, nel senso che non è quotidiana, è di ogni momento. Tutto ciò che io faccio serve per portarmi valore, per costruire quella fiducia che io posso poi dispensare a chi mi ascolta. O meglio, quella fiducia che chi mi ascolta può percepire. Una credibilità che viene costruita passo dopo passo, in maniera certosina, né più né meno, in modo figurato, di una goccia che cade da un rubinetto chiuso male. Quindi un qualcosa di cui si perde memoria di quando si è cominciato, perché è da sempre che si costruisce questa credibilità. Il secondo passaggio è avere argomenti da trattare. Deve essere una passione, deve essere un qualcosa che pervade i miei discorsi. Nel momento stesso in cui io espongo idee di ciò che so, deve essere una scarica, deve essere una energia, deve essere una capacità di una conoscenza di argomenti su cui io sono pienamente ferrato e che trasmetto con entusiasmo. Un altro passaggio sono la coerenza. È la coerenza una linea che mi contraddistingue, uno stile che mi contraddistingue e che può anche tranquillamente comprendere il fatto che io possa rinnegare una parola forte, però comunque disconoscere scelte passate, ma sempre in un'ottica di serietà, sempre in un'ottica di credibilità. Ecco che tutte queste cose sono legate, tutti questi passaggi sono legati gli uni agli altri. Ancora una strategia. Quarto punto. Cosa significa? Significa che io ho ben chiaro chi sono e mi do un traguardo. Non è tanto una questione di programmazione, quanto il fatto che io ho una consapevolezza del fatto di essere un libero professionista e quindi non vado a confondere il mio ruolo di professionista con magari un ruolo che è una sorta di scienziato, di docente, di, in altri video dicevo, di guru. Ecco, so dove voglio arrivare, so chi sono e mi comporto come tale. Da ultimo, quinto punto, la conoscenza dell'accesso e delle modalità di funzionamento del mercato dell'informazione. Ogni tribù, perché di questo si tratta, che abita all'interno di un determinato social ha delle sue regole. Lo sviluppo di internet ha consentito, ha consentito a qualunque consumatore un accesso scontato e illimitato a una mole di informazioni mai viste prima. Quello che una volta era un passaparola fatto di persone, oggi è diventato un passaparola digitale che non ha annullato quello delle persone, ma di sicuro ha avuto ad esempio effetti innovativi annullando ad esempio le distanze. Un passaparola digitale che si sviluppa all'interno di forum, di blog, di gruppi di discussione, di siti, delle varie community in cui questi sono e che all'interno di queste community è in grado anche di fare la differenza. Ma quindi come far parte di quello streaming, di quel passaparola digitale? La risposta è complicata e al tempo stesso molto semplice. È semplice perché basta dire che basta riuscire a emergere dal rumore di fondo, dove il rumore di fondo è quella quantità, quell'enorme mole di informazioni che internet restituisce in maniera del tutto indifferenziata, riuscendo quindi ad avere una propria intonazione, una propria nota caratteristica che ci consente di riuscire a essere migliori. Qualcuno potrebbe dire che questa immersione può essere definita anche come la capacità di sapersi vendere, che va bene, ma per come la vedo io questa sapersi vendere non è una capacità di saper monetizzare, ma è una capacità di sapersi proporre, in quanto come tratto distintivo di una personalità che non ricorre a trucchi digitali, che è in grado di saper prestare ascolto a chi sta parlando in quel momento. Un modo per poterlo attuare è la condivisione, forse la strada principale per potersi fare apprezzare da chi fino a quel momento manco sapeva della nostra esistenza. La condivisione la vedo proprio come un'opportunità di differenziazione a livello professionale e di vantaggio competitivo. Perché? Ma perché ci sono innumerevoli motivi che portano a far sì che io sia convinto di questo. Su tutti il fatto che permette il confronto, permette tra persone, permette il confronto fra idee, permette l'attuazione di un percorso di trasparenza, consente l'accesso a nuove idee, consente anche una sorta di idealismo di poter pensare che il bene che io posso fare, l'azione buona che io faccio, mi possa tornare nella stessa intensità. Mi permette, mi dà stimolo per nuove idee, mi dà, è una possibilità in tutti gli effetti di crescita personale. Quindi, volendo parlare di comunicazione in ambito professionale, la domanda che posso fare io a chi mi sta ascoltando adesso è volete essere incredibili o volete essere semplicemente credibili? A voi la scelta.